signori buongiorno e bentornati sul canale del master k e io sono il master k è il vostro ospite su questo canale e questa settimana avremo un altro speciale dedicato alle fiere quest'anno abbiamo visto il luca comics la loro pioggia torrenziale abbiamo visto in modena play ma ho pensato che dato che mi hanno invitato come ospite al free rpg com dell'associazione ludovest di lainate era il caso di far vedere per una volta anche una delle fiere diciamo minori io ero lì a tenere una serie di demo di armalia ve ne ho già fatto sul canale il gioco abbiamo presentato ai modena play e mentre loro lì mi sono reso conto di quanto siano effettivamente importanti questo tipo di eventi anche solo per conoscere le altre persone avere un evento magari più piccolo ma in cui viste le minori dimensioni è anche possibile parlare e provare molto più facilmente i giochi quindi dato che quest'anno sul canale abbiamo già visto i due principali eventi italiani ho deciso di dare spazio anche a qualcosa di più piccolo ma che può essere più interessante e questa settimana vi farò vedere un po di quello che ho fatto ai legnano al free rpg com ma soprattutto parleremo con master chicken che poi mentre lo conoscete perché l'autore di drago droga quelli che hanno il più bel filmato su internet della storia che poi l'organizzatore dietro la fiera e come stavamo dicendo abbiamo con noi master chicken che ok spiegaci l'evento cosa c'è dietro in retroscena ciao a tutti intanto grazie a te di ospitarmi qui beh come è stato l'evento in una parola sola a bello che direi che lo descrive stringatamente ma ma molto bene è stata una giornata molto intensa che ha visto avvicendarsi sui vari tavoli un buon numero di di master ospiti e e giocatori che sono passati da un tavolo all'altro vivendo esperienze a volte radicalmente opposte ma le hanno apprezzate tutte e anche perché contando così spannometricamente eravamo sette otto master e una trentina tra i partecipanti quindi per essere questa per verrà la prima edizione in pratica era la prima edizione sì come associazione io faccio parte di ludovers siamo un'associazione ludica presente sul territorio alla inate in provincia di milano e abbiamo già fatto degli eventi aperti al pubblico non è il primo questo però il primo specificatamente dedicato al mondo del gioco di ruolo e se posso un po darmi una pacca sulla spalla da solo nasce per mia iniziativa personale ok allora a questo punto la domanda la domanda scontata è da cosa nasce questa iniziativa perché organizzare una mini fiera del gioco indipendente fondamentalmente allora nasce dal e vede la sua data nel 22 di giugno perché nasce dall'idea di agganciarsi a quello che è un brand di casa americana che è il free rpg day che è la giornata dedicata alla promozione gratuita del gioco di ruolo quindi io avevo in passato negli anni passati avevo frequentato degli altri eventi che che appunto si agganciavano a questo a questo evento tendenzialmente mondiale no nel senso che in quella data un po in tutto il mondo ci sono eventi legati alla promozione del gioco di ruolo bisogna dire che in italia sono abbastanza rari in italia sono purtroppo rari e lo dico veramente col magone perché abbiamo un bellissimo panorama e poi magari se ti va vorrei un po cercare di sviscerarlo però come ti dicevo cercandomi di agganciare agganciarmi a questo a questa data ho contattato dei degli ospiti e dei master un po nella mia cerchia di conoscenze e ho organizzato questo evento perché sono anche convinto di questo sono fermamente convinto che le le realtà legate al mondo del gioco non solo di ruolo in questo caso però locali abbiano una grande forza un grande impatto però hanno bisogno di farsi vedere di più all'esterno beh diciamo che uno degli scopi di questo video oltre a essere auto celebrativo come tutti i miei video ovviamente è anche quello di portare per quest'anno abbiamo portato almeno io sul canale ho fatto i lucca comics i modena play che sono gli eventi quelli che conoscono tutti però in realtà il gioco di ruolo sopravvive principalmente grazie ai piccoli eventi locali perché è lì che la gente vede i giochi sì sì di fatto sì infatti se se posso dire abbiamo avuto dei visitatori che erano totalmente neofiti del mondo del gioco di ruolo erano delle conoscenze eh di di altri soci che vedendo comunque il battage che abbiamo fatto sui social si sono incuriositi sono passati a trovarci e hanno scoperto che eh giocare di ruolo eh non è una non è una roba di cui vergognarsi anzi è un passatempo estremamente divertente e tutto sommato non banale cioè il gioco di ruolo non è eh quattro perdonatemi il termine però quattro bambinetti che giocano a far finta no o meglio nasce da lì ovviamente eh però eh noi lo facciamo da adulti ok e anche se tocchiamo temi eh un po' folli e divertenti eh lo facciamo con con la testa di degli adulti ecco sì questa è una delle una delle diatribe interne del gioco di ruolo che in realtà non è neanche una questione ovviamente non dovrebbe esserlo ovviamente quello che fa un gruppo di quindicenni al loro tavolo non è la stessa cosa che farà un gruppo di quarantenni al loro tavolo è anche normale così assolutamente eh assolutamente e e oltretutto non le differenze a mio avviso non vanno neanche ricercate solo nell'età anagrafica ma anche nelle tematiche e nelle modalità di gioco eh se posso parlare di qualche titolo che abbiamo avuto eh noi siamo passati da un da dell'old school classico eh sui nostri tavoli è stato rigiocato strange magic che ormai è un caposaldo del del movimento old school italiano e ma quindi comunque con la sua mortalità col suo fantasy eh un po' decadente eccetera eccetera il grimdark il famoso grimdark beh sul grimdark abbiamo avuto anche streben che in questo è è campione per il mercato italiano pure troppo grimdark abbastanza ciao giovanni parliamo parliamo del tuo gioco e no però poi dopo strange magic abbiamo giocato a passion della passiones che per me è un gioiellino del mondo del gioco di ruolo degli ultimi anni dove i giocatori hanno impersonato eh dei i personaggi di una telenovelas messicana ambientata su una nave da crociera stile love boat quindi super divertente giocando sugli stereotipi di una televisione forse di qualche anno fa ma abbiamo avuto anche un chamber larp eh che per chi non lo conosce è un è una forma di gioco di ruolo dal vivo eh dove l'impersonificazione è molto forte coi personaggi e ed è difficile trovare questo tipo di eh di tavoli anche nelle fiere più grandi eh se siamo onesti perché non è che a modena o a lucca trovi molti che che mettono a disposizione dei tavoli per fare dei chamber larp anzi ricordo un larp a lucca ma ti parlo di dieci anni fa ed era una roba privata di un'associazione che l'aveva fatto in contemporanea però sì è la prima volta che ma forse in una fiera grossa non si potrebbe neanche più di tanto fare una cosa del genere può può essere può essere però questo è di fatto come come vedi uno dei vantaggi delle realtà locali piccole noi ci siamo potuti permettere di avere una una stanza dove i giocatori non 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 sentivano il rumore degli altri tavoli e personalmente ho giocato anch'io al al chamber larp è stata un'esperienza molto intensa e poi dopo quell'esperienza molto intensa proprio a livello personale magari c'era a pochi metri un tavolo di rascals of the universe che è un gioco di ruolo parodistico sugli scagnozzi di un cattivo stile masters of the universe e tra l'altro quello voglio dire io mi sono io ero lì a fare demo per armalia mi sono preso una pausa tra le demo perché con leoni quello di autarchia gg mi ha detto vanno no vieni a provare il mio gioco essendo lui osr mi aspettavo appunto uno strange magic mi sono seduto al tavolo ma questo è i men sì sì rascals of the universe è un titolo che ha portato la putrid games con cui ho l'onore di lavorare col mio drago droga contro il capitalismo e tra l'altro l'universo a modena sono venuto a cercarvi e avevate fatto il tutto esaurito non ho potuto fare neanche riprese si modena è stata spettacolare da quel punto di vista con la putrid abbiamo fatto il tutto esaurito alle tre e mezza del sabato abbiamo fatto un metà fiera con il tavolo vuoto perché non avevamo più niente io spero di ottenere io ovviamente come ho detto ero lì per fare le demo di armalia dove anche intasato ovviamente i social di qualcuno con le foto ma hai fatto bene hai fatto super bene oltretutto io non sono riuscito a provare armalia mi sarebbe piaciuto però dovevo un attimino mettila così nonostante la fiera fosse piccola abbiamo avuto problemi perché siamo riusciti a fare due tavoli anche in sovrannumero ma poi semplicemente troppa gente per provare non si è potuto provare tutto anch'io volevo poi provare delle cose che non sono riuscito a provare no chiaro però ad esempio dei nostri soci mi hanno poi parlato della sessione con te e erano entusiasti perché come le associazioni e le piccole realtà locali secondo me sono la linfa vitale del mondo dei giochi io trovo che i titoli un po meno mainstream non voglio dire indie perché è un'etichetta un po abusata ok però i giochi un po meno mainstream sono un tesoro importantissimo che abbiamo e mi riallaccio a quello all'inizio in italia abbiamo un gran numero di titoli che secondo me sono degni di nota alcuni li abbiamo avuti al tavolo sabato altri sarebbero voluti venire però purtroppo gli autori avevano già degli impegni precedentemente presi altri gli autori sono troppo lontani per per pensare di farli venire alignate per un sabato di gioco però sta di fatto ci sono tanti titoli interessanti che vanno un po oltre possiamo dirlo insomma dungeons and dragons e pathfinder che hanno ovviamente io non ce l'ho contro dungeons and dragons e pathfinder fanno benissimo a esistere e sono contento che abbiano il loro mercato sì ma non puoi avere un'intera cultura del gioco di ruolo basato su un singolo gioco qualunque questo gioco sia bravo bravo perché io sono convinto che la sperimentazione nel mondo del gioco in generale ma nel mondo del gioco di ruolo forse questo ha ancora più impatto sperimentare altri titoli e sperimentare il gioco con altre persone che non siano il tuo gruppo di amici con cui abitualmente ti trovi in taverna io credo che sia utilissimo utilissimo immagino che anche tu quando hai iniziato a giocare anche io ho avuto l'associazione per anni ma io la vedo anche a un livello molto sarà per deformazione professionale io vado molto sul tecnico anche nei video dnd quinta edizione le regole che voi state usando sono diverse da quelle del dnd osr perché nel frattempo negli anni 90 uscì cyberpunk 2020 che all'epoca era un piccolo gioco sperimentale che introdusse il farai dei night fire fight che era appunto da 2 a 10 modificatori di caratteristiche a più modificatori vari non avreste dnd quinta o dnd one che sta per arrivare se non fosse uscito cyberpunk come gioco indipendente quindi anche senza andare sul filosofico anche proprio a livello pratico più giochi escono più c'è più che altro dialogo tra le persone e assolutamente ci sono soluzioni nuove ma anche solo le differenze che ci sono tra la quinta edizione e la terza edizione derivano da un'evoluzione nel discorso all'interno del gioco di ruolo quindi assolutamente assolutamente tutto sacrosanto e condivisibile e queste differenze le puoi le puoi godere ne puoi godere appieno solo se ripeto esci dalla tua taverna e esperimenti altro e in questo il free rpg con che abbiamo fatto alle nate era proprio uno dei suoi obiettivi no? non c'era bisogno di portare al tavolo dungeons and dragons quinta edizione perché se se io fossi un giocatore intenzionato a provare dungeons and dragons quinta edizione basterebbe alzare la mano su qualsiasi social e troverei migliaia migliaia di altri giocatori i giochi grossi li trovi ovunque quindi quando fai degli eventi del genere questo vabbè è una cosa stupida ma evento piccolo io ero lì a fare appunto le dimostrazioni di armalia a un certo punto mi sono trovato al tavolo come come giocatore San Filippo Arco Delegent che è un autore indipendente che infatti mi sono fatto anche la gaffa del ah ma sei anche tu cosa porti no io sono in ferie sono venuto a giocare ecco voi avete il vostro regolamento il vostro gioco quello che è andate a un evento del genere al di là del vedere il risponso del pubblico magari incontrate altri che sono all'interno del settore che vi possono dare un consiglio fare una valutazione tecnica oltre che sull'estetica del gioco quindi è il motivo per cui queste fiere sono importanti ed è una cosa che a Lucca non vi può succedere assolutamente tant'è vero che noi avevamo come ospiti al tavolo avevamo sette master ufficiali diciamo dell'evento ma all'interno della giornata alcuni non sono stati tutto il giorno con noi però all'interno della giornata oltre a questi sette almeno altri tre o quattro autori sono passati e questo è veramente se ci pensi per un giocatore è oro colato perché comunque vabbè adesso per carità io non mi escluderei anche da questo discorso perché sono proprio l'ultima ruota del carro degli autori però comunque c'erano c'erano tanti autori di generi diversi che comunque erano lì e non erano assisi sul loro trono a farsi osannare erano lì a bere una birra insieme agli altri a giocare al tavolo alcuni come master ufficiali altri come giocatori quindi mamma mia cioè io per una cosa del genere andrei giù di testa se non l'avessi organizzata io sarei sarei corso comunque ok boh diciamo che non vogliamo far perdere neanche troppo tempo né a te né a quelli che ci stanno seguendo però se volete andate sul sito dell'associazione ve lo lascio qui sotto in descrizione trovate i link per scaricare tutte le demo che sono state fatte così ve lo riproponete a casa si se volete fare la vostra link con assolutamente ci tengo se mi permetti a fare un po' di pubblicità a Ludverse noi siamo aperti tutti i martedì e tutti i giovedì sera dalle otto e mezza fino più o meno a mezzanotte quindi chiunque ci voglia venire a trovare facciamo gioco di ruolo ma facciamo anche gioco da tavolo e wargames tridimensionali quindi accogliamo ogni tipo di giocatore ecco magari non quelli che vogliono giocare a Monopoli ma tutti gli altri si ma Monopoli non ci giocate per motivi politici immagino no Monopoli non ci giochiamo perché ok non farmi diventare elitarista comunque con noi a questo punto ci rivediamo la prossima settimana come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che dovrà crescere il canale fate un salto sul sito dell'associazione di Ludovers così vedete anche come funzionano queste associazioni dipendenti per il resto io sono il Master Kai lui è il Master Chicken e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao